Ecco qui parliamo di familiari come soggetti che vivono insieme al trapiantato e i soggetti vengono chiamati anche caregiver cioè coloro che nell'ambito familiare ma anche amici ma anche persone che si prestano ad aiutare volontari possa essere chiunque di quale tipo di assistenza ha bisogno un paziente prima del trapianto e dopo e qui non parliamo forse più di quella medica ma di quella psicologica cioè di supporto e soprattutto familiare come avevi detto poco anzi tu per noi è fondamentale la figura del caregiver il caregiver che può essere una sola persona o più persone devono prendersi cura del paziente cura del paziente vuol dire semplicemente andare a fare la spesa andare in farmacia per recuperare i farmaci di cui avrà bisogno il paziente ma potrebbe anche essere necessario assistere il paziente nelle sue attività quotidiane perché anche se non è detto nei primi periodi potrebbe non essere autosufficiente nel lavarsi nel deambulare nel mangiare perché stanco perché perché è difficile perché esatto che sta subendo gli effetti della chemioterapia o delle possibili complicanze del del trapianto è importante la figura del caregiver perché in alcuni casi l'assenza di questa figura rende il paziente non idoneo alla procedura trapianto nel primo è importante perché se non se non siamo certi di avere un caregiver dopo è meglio pensarci perché faremo più danno nel sottoporre il paziente ad un trapianto senza poi un supporto familiare adeguato non confondere il supporto familiare con quello ospedaliero perché quello ospedaliero va dato comunque sempre è fondamentale per il dopo per tutta la fase di decorso di degenza post banalmente serve il caregiver anche per chiamare noi trapiantologi in caso di comparsa di alcune complicanze del trapianto o in caso di emergenza per chiamare il 118 quando il paziente potrebbe non farlo per cui Simona è importante se ho capito pur essendo profano ma quando dai questo valore al caregiver è un valore non soltanto psicologico ma anche tecnico nel senso che deve essere presente e coinvolto sin dalle prime fasi dove si va ancora non si è deciso il trapianto però se ne sta parlando perché sarà poi la persona di riferimento assolutamente e non può essere soltanto la cura ospedaliera ma deve essere anche la cura familiare o di chi ci sta intorno ecco